E andiamo avanti con la rappresentanza del Partito Democratico e una giovane per la prima volta in competizione elettorale è Valentina Carcione. Buonasera a tutti, sono Valentina Carcione, una delle undici donne presenti nella lista del Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Carmelo Sostile. Prima di iniziare il mio intervento vorrei ringraziarvi per aver deciso di riempire questa piazza per ascoltare le motivazioni che hanno spinto tutti noi a sostenere questo progetto politico. Questa sera vi parlo da giovane donna che per la prima volta si candida ad una carica così importante, il Consiglio Comunale. Ciò che mi ha spinto a candidarmi, la linfa vitale di questa mia esperienza, è la passione per la politica. Passione nata tra i banchi universitari e cresciuta attraverso la partecipazione attiva tra le fila del Partito Democratico, ma è soprattutto una passione che si rafforza sempre più nell'affrontare e toccare con mano i problemi della società in cui vivo e ai quali, nel mio piccolo, cerco di dare una soluzione. Ho scelto di candidarmi al fianco del dottore Sottile perché credo che veramente sia arrivato un momento in cui ognuno di noi debba fornire il proprio contributo per il bene comune. perché si riscopre il senso e il significato della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Mi sono presentata come giovane e come donna, due categorie che fino a questo momento hanno avuto poco spazio nella vita politica sia nazionale che locale. Categorie che non possono e non debbono più delegare ciecamente la propria rappresentanza, ma che debbono trovare il coraggio e le motivazioni per essere le protagoniste di un vero e profondo cambiamento della politica, della vita politica sia istituzionale di questo Paese. Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, ma questo momento così delicato è difficile, può e deve essere visto anche come una grande opportunità. Qualcuno in passato ha detto che la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi, perché è nella crisi che sorgono l'inventiva e le scoperte, perché è proprio nella crisi che emerge il meglio di ognuno di noi. Quel qualcuno si chiamava Albert Einstein. Le difficoltà quotidiane che ognuno di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre occupazioni vive quotidianamente, possono diventare la più grande e formidabile motivazione per cambiare, per cambiare il nostro modo di pensare alla cosa comune, per cambiare il modo stesso di intendere il rapporto tra la gente, la politica e le istituzioni. Cambiare oggi significa più di tutto partecipare, e partecipare alle scelte importanti per la nostra comunità. Partecipare significherà, con l'amministrazione guidata da Carmelo Sottile, non essere gli oggetti del governo, come è stato finora, ma diventare finalmente tutti noi, giovani e donne, in modo particolare, soggetti attivi nell'amministrazione di questo Paese, nelle scelte che verranno fatte e nelle responsabilità che ognuno di noi dovrà assumersi. La partecipazione di tutti i cittadini è uno dei punti fondamentali del programma del candidato sindaco dottor Carmelo Sottile e della compagine che lo sostiene. Un gruppo di persone che ha deciso di impegnarsi spontaneamente, ognuno con le proprie competenze, con le proprie idee, i propri punti di vista, per portare avanti un progetto che avrà il suo inizio il 9 e il 10 giugno. Noi non siamo un comitato elettorale che resta attivo per un mese e per poi scomparire, ma al contrario, siamo insieme di intelligente, capacità e sensibilità, accomunate dal desiderio e dalla volontà di accompagnare Carmelo Sottile nel suo progetto amministrativo. E di sostenerlo, non solo dal punto di vista morale, ma soprattutto facendoci portavoce tutte quelle stanze dei cittadini che troppo spesso sono state ignorate e dimenticate. Se davvero si vuole un modo nuovo di amministrare, se vogliamo che le persone e le loro esigenze restino l'ago della bussola di questa esperienza, allora bisogna partire da questo rinnovato e forse mai visto desiderio sincero di partecipazione. Bisogna valorizzare le figure istituzionali intermedie già presenti nel nostro statuto comunale e anche gli altri istituti di partecipazione. Va istituita e sostenuta, incentivata l'esperienza della consulta giovanile. Vanno valorizzati i consigli di quartiere che attraverso l'opera dei consiglieri di quartiere devono garantire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città. La gente di questo Paese ha diritto di sapere e di scegliere. Non è tollerabile, solo per fare un esempio, che la città non sia stata interpellata riguardo a un tema così importante e così grave come quello della realizzazione della discarica di contrade a carbone. Non possono e non devono più essere imposte e calate dall'alto delle scelte così importanti e delicate per il futuro e per la vita di un'intera comunità, dalle quali può dipendere perfino il bene più caro che abbiamo, la nostra salute e quella dei nostri figli. E' davanti a queste scelte che si possono e si devono attivare tutti i canali di partecipazione possibili, dalle conferenze cittadine, le consultazioni popolari e, se necessario perché no, anche il referendum. Tutti strumenti che sono previsti dallo Statuto Comunale, ma che mai, anche di fronte a scelte importanti e perfino dai risvolti drammatici, sono stati sperimentati in passato. Questa è la partecipazione che vogliamo e che il progetto di Sostine Sindaco ci assicura. Una partecipazione reale, una partecipazione informata, una partecipazione consapevole, ma soprattutto una partecipazione responsabile. Ecco perché il progetto che in queste settimane la nostra coalizione sta presentando può essere un momento di svolta, può essere un nuovo modo di intendere la politica, non solo per i prossimi cinque anni, ma per le generazioni future. Ecco perché dobbiamo cambiare. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose, se continuiamo a votare allo stesso modo, secondo le vecchie logiche. Tutti noi siamo soggetti politici e lo siamo soprattutto nel momento in cui prendiamo in mano con la matita, il cui tratto può cambiare le sorti di un Paese. E io sono sicura che tutti noi vogliamo essere i protagonisti di questo cambiamento, votando Carmelo Sottile Sindaco. Grazie. Io noto con grande piacere che la piazza questa sera è molto più piena dell'altra volta, quindi questo già l'esperienza mi indica che qualcosa comincia a delinearsi, qualcosa di importante. Quando due anni fa circa, io dopo l'esperienza passata alla provincia regionale di Messina, andai a ricoprire il ruolo di capo della segreteria ai lavori pubblici della regione siciliana, successe una cosa che probabilmente non era mai successa nell'ambito del governo regionale. Avvenne un ribaldone e il Presidente Lombardo cambiò il suo governo con altri partiti politici rispetto a quelli che... Tanto il 7-8% sono stati intercettati, cioè un sacrileggio. Dobbiamo fare in modo che tutto ciò non accada, dobbiamo stare vicini ai cittadini, dobbiamo essere loro solidari perché non è possibile che la gente venga a abbandonare i disagi dei cittadini. Io concludo il mio intervento anche perché poi lascerò lo spazio che mi rimane alla candidata Bonina che aveva piacere di salutare la piazza, ma prima di concludere dico questo. Stanno giocando. Ho visto le persone aprire la porta, non a me perché mi conoscono e ci sono cresciuto là, ma a Carmelo Sottile definendo quello che è una persona che riesce a dare moltissimo alla gente, cioè non solo dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista umano. E allora concludo e dico, Carmelo, io credo che prima di affidarti il Comune, l'amministrazione comunale Santa Caresi, perché l'ho capito questo, è un plebiscito, è una cosa incredibile. La gente grazie alla tua professionalità ti ha affidato qualcosa di più importante, la loro salute e la loro vita. E allora io credo che questo per te diventerà una parte di casa di salute su di Giorrona. Grazie. Buonasera, sono Dominga Bonina per chi non mi conoscesse e sono candidata, grazie, e sono candidata come consigliere comunale nella lista appunto Santa Catadumano. Ho accettato e quindi con grande orgoglio di far parte di questa competizione elettorale in appoggio al dottore sottile perché credo fermamente in questo progetto ma soprattutto credo nella pulizia e nella onestà dell'uomo Carmelo. Per chi non lo sapesse io sono una pedagogista con un discreto bagaglio di esperienza lavorativa e di vita e che metto a disposizione di tutti. per cui i miei interessi e le mie abilità sono rivolte al sociale, vista la mia formazione culturale e quindi ho diverse idee, ho tante idee in proposito. Vorrei sottoporvene qualcuna, penso per esempio ai centri di aggregazione giovanile, penso ai sussidi nei confronti delle famiglie più deboli, sono importantissimi, all'abbattimento delle barriere architettoniche e a tante altre cose che svilupperemo spero insieme perché questa amministrazione, questa futura, spero futura amministrazione ha una grande sensibilità nei confronti di queste tematiche. dobbiamo aiutare i deboli, non renderli sudditi, questo è importantissimo. Quindi io oggi vi invito a continuare con questo grande entusiasmo che vedo nel sostenere il candidato Carmelo Sottile. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa, la sua spontaneità, la sua grande umiltà, la sua discrezione. Ecco, queste sono grandissime doti e sono dei punti di forza perché sono segno di un'autentica genuinità. Per cui sosteniamolo, è veramente una persona che può fare tanto per noi. E poi, dottore Sottile, ti stimiamo e ti vogliamo bene anche per questo, proprio anche per queste doti. Concludo con una frase. Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene e dell'amicizia. Per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno, signori, faccia il proprio dovere. Lo ha detto Giovanni Falcone. Votiamo miti e compatti il dottore Sottile e le sue viste. Buonasera e grazie. Proseguiamo adesso sempre con un altro rappresentante del Partito Democratico, Giuseppe Buleo. Grazie. 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 Grazie.